A X-Nob e U saranno a San Drembo 2022. La notizia è arrivata oggi, 18 gennaio 2022, sul web, su internet, una coppia affiatata secondo me anche a livello artistico, Federica Ferracuti in arte U e Michele Madera in arte a X-Nob dunque, o i snob che dirsi voglia, saranno in gara, saranno diciamo così coloro che parteciperanno al festival della canzone italiana come concorrenti e vedremo se vinceranno oppure no. Sarà un momento ovviamente ottimo per loro due, la coppia che a livello artistico è piuttosto unita a, diciamo così, gestire a livello musicale ciò che può essere gestito. Sono convinto che otterranno un grande successo, un'ottima capacità entrambi per il quarto anno, li riconsidero due artisti completi, quindi polietrici nonché eclettici. Bene, complimenti dunque a Michele e per l'appunto a Federica, ripeto, che in arte si chiamano U e X-Nob e vediamo quello che succederà e se vincerà no no, il festival di San Drembo 2022, che vi ricordo inizierà i primi di febbraio. Il video termina qua, iscrivetevi al canale Non Redatore Italiano, commentate. Ciao a tutti e al prossimo video.